ma che è quel coso guarda che è è l'aereo eccolo la eccolo si riprendilo buon quadro aspetta ecco che storia guarda guarda ma che è ma si è diviso si è diviso guarda che uno è volato via guarda 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 se sta a muovere se sta a muovere guarda ce n'è uno piccolo che gli gira intorno sta a scappar via verso il lago guarda guarda che storia mamma è andato